Il campo di polo di Bagatelle, mentre si disputa la partita per la Coppa e Chelsea, è stato lo scenario in cui si era data convegno tutta Parigi elegante. L'obiettivo, per dimostrarsi cavalleresco nei riguardi delle signore sempre curiose di moda, ha trascurato la partita per girare quasi esclusivamente i modelli estivi delle spettatrici. L'obiettivo, per dimostrarsi cavalleresco nei riguardi delle signore. L'obiettivo, per dimostrarsi cavalleresco nei riguardi delle signore.